Facciamo un omaggio speciale a questi 70 anni di Costituzione facendo leggere a Flavio Bucci l'articolo 3 della Costituzione italiana. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli, gli ordine economico e sociale che, evitando di fatto la libertà e l'embaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 3 della Costituzione. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.